Partiamo dall'espinal calciatore, quanto vale da sportivo il gesto che ha fatto Mattia e da calciatore in base anche alla tua carriera? No, è un gesto che non si può descrivere, qualcosa di straordinario che ha fatto, bisogna solo di essere orgogliosi di lui. A calciatore sarà capitato di vedere l'avversario in difficoltà, a volte essere bloccati, non riuscire ad agire. Lui invece da giovane, classe 2003, ha avuto il coraggio di agire immediatamente. Sì, lui ha avuto la forza, con lui a volte è molto sensibile, quindi certe volte non riesce calcisticamente. Invece nel momento più importante, la vita l'ha messo ad una prova fantastica e lui è riuscito a trovare il coraggio e l'abilità per risolvere il problema. L'Ospedaletti è una società che basa tanto sul lavoro del settore giovanile, sul settore giovanile il suo gesto sarà un esempio per tutti i giovani calciatori Orange. Sì, guarda, io sono cinque anni qui, ho visto tante cose, ho imparato tanto, ma questo gesto lo porterò con me per tutta la mia vita. E penso che l'Ospedaletti deve essere orgoglioso alla società, ma a tutti i compagni, tutto l'ambiente di essere orgogliosi di questo ragazzo, perché ci ha donato qualcosa di veramente molto bello. Per una società che lavora molto col settore giovanile, cosa significa avere a che fare con la FIFA, con una nomination FIFA, del campionato di eccellenza Ligure al mondo? È una cosa talmente grande che neanche noi ce l'aspettiamo, sinceramente, ci rende orgogliosi dopo comunque un anno difficile, dopo lo smontamento. Questo forse è un piccolo, un grande riconoscimento degli sforzi fatti sia per il ragazzo ma anche per noi come società. Da un veterano come te un messaggio per Mattia in amicizia, diciamo non da allenatore ma da compagno di squadra? No, di continuare così, di non vergognarsi della sua sensibilità, di essere sempre generoso, di aiutare gli altri come sta facendo, perché al momento giusto questa sensibilità che a volte può bloccare, al momento giusto può servire per salvare delle vite. Grazie! 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 Grazie!